Un take sperando che l'anticipo riesca, il pericolo svanisca, singolare come il Pescara per prendere la sua punta sia costretta ad una giocata da consumato difensore. Per arrivare a Simone Andrea Ganz, infatti, il Delfino cerca di respingere l'insidia a Palermo, per avere il centramanti che Zeman ha scelto come centrale all'interno del tridente che ha in mente. In realtà la questione sembra essere reciproca, perché anche Ganz, da tempo in contatto e in accordo con la dirigenza bianca-azzura, la sua scelta sembra averla fatta. Nonostante l'inserimento dei rosa nero. D'altronde in casi come questi contano i soldi, è vero, ma non solo. Anche e soprattutto la volontà del giocatore fa la differenza e per questo, nonostante lo scarto che separa le due offerte, 2 milioni il Palermo, 1,7 il Pescara, l'Ambruzzo sembra davvero essere la prossima tappa del centramanti figlio d'arte. Per questo i contatti con la Juventus, proprietaria del cartellino del giocatore, non si sono mai interrotti e potrebbero presto portare alla fumata bianca. Anche considerando il fatto che le alternative Vido e Tuminello, per motivi differenti, non sembrano praticabili. Il primo è stato ufficialmente acquistato dall'Atalanta via Milan, mentre per il secondo a parlare della sua gente, Andrea Manfredonia, che smentisce accordi con altri club e aspetta di partire con la Roma per il ritiro di Pinzolo, per lasciare che sia Eusebio Di Francesco a dare la valutazione definitiva sul fatto che Tuminello possa restare o debba andare a giocare altrove. Solo se così dovesse essere, ecco che il Pescara sarebbe in posizione di assoluto vantaggio rispetto alle concorrenti. Con l'Udinese la trattativa per Coulibaly è avviatissima, 2 milioni più 2 di bonus, questa l'offerta dei friulani per avere la senegalese, che però pretenderà garanzie di poter giocare con la prima squadra, e non con la primavera. Particolare questo che ha fatto saltare l'affare già virtualmente chiuso con l'Inter. Ma con la società dei Pozzo si parlerà anche del possibile addio di Francesco Zampano alla maglia biancazzurra per colmare la partenza di Wittmer. Probabile che l'Udinese provi ad inserire una contropartita tecnica per arrivare al giocatore. A proposito di addi, oggi vertice decisivo tra il Delfino e l'Avellino per il portiere Mirko Pigliacelli, incontro che dovrebbe servire a formalizzare gli accordi tra le due parti con il portiere che si avvicina a rapidi passi verso la squadra campana.